No, mio Dio. Perché ci sono quasi tante persone? Wow. Ma che? Ehi, ho appena ricevuto un match. Oh. Beh, io ho chiuso, basta. Ne ho abbastanza. Ehi. Ehi. Scarichi una stupida app e ti trovi immediatamente a letto con il tuo match. Sì, ma eri molto più carino in foto che dal vivo. No. Ehi. Ehi.